tubi inghiottano la merda direttamente da sotto le chiappe Nulla, non ho nulla da vendere Non quello di ora Troiaio, sei un sceno, è bruttissimo, io guarda due puntate sono fatte. No, basta, basta Non voglio neanche vedere il film, è troppo brutto. Ha fatto particolarmente schifo. La cacciatrice Non so come fa la colpa Basta, finito E lei è una ramadina Croce, ma quale croce? L'ho pensato anch'io Ma quale croce? Ma quale croce? Il nostro canale supporta contenuti originali Guardate la puntata sopra in video prima di vedere il nostro video Ciao ragazzi Vento Mi perdoni Siamo qui con una nuova proposta per voi Stavamo guardando tra il marciume di prime Ovviamente ci siamo imbattuti in una serie che fa al caso nostro secondo noi Ed è Buffy l'ammazza vampiri Immagino che un po' tutti La conoscerete, chi avrà visto qualcosina Insomma Qualcosa Chi è della nostra età Almeno un nominata L'avrà sentita nominare Buffy l'ammazza vampiri Anche perché comunque no Una discreta serie Una bella serie Io mi ricordo che avevo anche il gioco per la Xbox che era fighissimo Ah vedi, vedi Troppo gara Il gioco non l'ho mai trovato però Era molto gatto il gioco Mi ricordo che ogni tanto guardavo qualche puntata Sì Quando ero piccino Comunque Buffy 2000 2000 quindi Magari non era il 2000 No vabbè L'ho vista io S'era stato il 2004 2005 Però mi ricordo che alcune puntate mi facevano anche paura Sì non era Cioè comunque gli argomenti un po' sovrannaturali Sì era quella roba un po' come Streghe Un po' come Streghe vampiri E poi il mostro della settimana Esatto E comunque fa anche molto a caso nostro Perché ogni puntata di solito c'ha il mostro della settimana Il mostrone Da sconfiggere Poi c'è l'arco narrativo generale Esatto Poi ci sono i personaggi tipo Xander Che è molto bello Esatto Vabbè Ma siccome la puntata è abbastanza lunga Sono puntate da una quarantina di minuti Direi di non perderci troppo in chiacchiere Andiamo a vedere la primissima puntata di Buffy Fateci sapere se poi vi piacerà Se vi piacerà La continueremo sicuramente Esatto Mi ricordo Mi pare almeno Che la prima puntata sia in due Divisa via Si Il classico pilot Il pilot era un'ora e mezzo diviso in due Tipo signore in giallo Qui mi dice episodio 1 in realtà Però magari Si ma magari si chiama diverso in Italia Può essere Lo so Si chiama benvenuti al college Questo che sembra molto American Pie Esatto Arriva Ruggeri E' la cacciatrice E' la cacciatrice E' la cacciatrice Poco dopo Twin Peaks Twin Peaks Twin Peaks che ha 93 Si 91,92 93 91,92 Mi pare Sei sicuro che sia una buona idea? Certo E' geniale se posso So cosa state facendo ma sicuramente è un'ottima idea Io 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 Non ho voglia di andare lassù Dai che non vedi l'ora eh Ma Lui E' famoso Mi sbaglio Lui? C'è anche lei Ma Lui assomiglia solamente a uno Che ho rivisto Non so Al momento non mi dice niente Vabbè lei mi sembra Cali Cuoco Però chiaramente non è lei Non è lei Non c'è nessuno qui Ok Ok Oh Eccolo Così Non me lo aspettavo posso dire Ci presentano i nostri personaggi Sara Michel Galar Mitica Che ha fatto questo E Scooby Doo Il film di Scooby Doo Insomma Quindi ha fatto le cose più importanti Esatto Per i ragazzi degli anni 90 Il film di Scooby Doo bellissimo Il primo almeno Basta Finito Quello che tutti suoniamo più o meno Esatto Cazzo stai Un mischione di roba Che bello Sta tutto proprio di 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 primi 2000 A fine 90 Sa proprio Questa area anche da scary movie Sono sicuro che ti farei subito degli amici Pensa positivo Penso positivo Perché è fondi vivo Perché è fondi vivo Perché è fondi vivo Perché è fondi vivo Non farti buttare fuori Ah Eh beh beh Buoni propositi dell'anno Cercare di Perlomeno Farti cacciare eh Bang Bella legnata Sai ho un problema con la matematica Cosa in particolare Tutta quanta Vabbè Tutta quanta Che problema c'è? Molto carina Beh Ho sentito che qualcuno si è trasferito Allora dimmi tutto Tutto Cosa? Che si sa? Che sai di lei? Che è nuova Beh È arrivata ora Chi cazzo deve sapere? Effettivamente Signor Flutti Tutti i ragazzi Possono chiamarmi Bob Bob Però non lo fanno Però non lo fanno No Bob Non Orribile Non è così brutta No Ma hai bruciato la palestra Non si può fare più niente però Vede quella palestra Era piena di vampi Di amianto Di amianto Infatti In ogni altra scuola Ti direbbero Vada a quello che fai Oppure Ti terremo d'occhio Attenta Ma Qui da noi Non è affatto così Siamo tutti amici Puoi bruciare tutto quello che vuoi L'altro Ovviamente per la minigonna Benissimo eh Ci mancherebbe però Posso rimorchiarti? Eh? Bello Giusto vabbè Sapelo ci avrei provato anche io con questo merito da loro superiori Posso rimorchiarti? Lei è una ramatina Possibile? No No Chiaro Chiudo? Oh Ehi 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 Hai dimenticato il tuo Paletto? Eh Fa sempre comodo portarsi un frassino Chi non ce l'ha dietro I cambiamenti sociali porto a questa epidemia Steal? Oh no Oh no Che bello lo collocchia in testa Bello che c'è la profe lì uno urla Meno male Oh Vaffanculo te la mette niente Oh Me l'ha comprato mia madre Ecco perché attiri i ragazzi come un magnete Hai finito? Pora Willow Tra l'altro ci stanno dipingendo Willow come quella sfiegata brutta che non Si infatti Ci siete riusciti benissimo, vorrei dire Dovresti venire al Bronx stasera Venire Al Bronx Beh che si può frequentare qui Fanno entrare tutti Ma è comunque in Nella parte brutta della città Vabbè Ma è chiaro Al Bronx dove può essere Ehi c'è nessuno qui Grazie della B2S che era l'altro bella I college c'hanno tutte steguita che bellissime Mi serve le prospettive del ventesimo secolo Lo so che cosa ti serve Che? Ecco Olè Sto mattone qua ti serve Non è quello che stavo cercando Vabbè Però ti serve Ma è quello che ti serve La chiacchiera del bar è che è stata buttata fuori e sua madre ha dovuto cambiare il lavoro Negativo Positivo se la prende con tutti Ah negativissimo Il secondo me l'ha detto Blu e lei invece ha Ecco vai uno l'abbiamo trovato Vabbè effettivamente posso capire Se ne ho capire Posso capire Posso capire Sì è inglese è qui da poco Era curatore in un museo inglese Anzi proprio al British Museum mi sembra Certo, è andato a fare il gruppo deccario In un college, sperduto Sì, sì Sì, sì Sbaglio o stai blatterando come un idiota? No, non sbagli, è benissimo Beh, è un piacere conoscerti L'ordura avrebbe 17 anni, giusto? Sì, sì Si, 25 No, veramente è per autodifesa A Los Angeles si usa Lo spray al pepe è sorpassato Noi usiamo i paletti e le fuori E l'aglio Funziona così Ogni posto c'ha il suo Non voglio interromperti mentre visiti gli umili Ma assolutamente Insegnante di ginnastica Perché la palestra è stata chiusa Per un ragazzo un po' morto trovato negli armadieri Un po' morto Mi serve un libro, ok? Ci vediamo dopo Ma che storia è? Lui te l'aveva detto e ti serviva quel libro lì Te non ci credevi Ha lasciato il cadavere lì Tra l'altro è morto un ragazzo lì a scuola Non c'è la polizia Non c'è Tra l'altro c'è il buio così sul col Non se ne ha accorto nessuno Hanno giusto chiusa a chiave la palestra Scava un po' nella storia di questo posto E troverai una serie di avvenimenti piuttosto strani Forse la zona è un centro di energia mistica Qui gravitano cose che non gravitano Sono a Kabutkov Anni dopo Sono un osservatore Non so farlo No andiamo Un palletto nel cuore La luce del sole È facilissimo Glielo garantire Nel culo È banale Osserva? Sì No Lui Lui ti addestra Lui ti prepara Mi prepara Il coach Il coach della cacciatrice Qui siamo a Sanide Il male non può essere tanto potente Ne ho Le ultime parole Qui ci saranno i puffi immagino Sì Il dormiente si desterà Il mondo grotterà Ma via ragazzi Bellino eh Beh ragazzo Belli vampiri del mondo di puffy Davvero? E vorrei andare a un club Ah E ci sono anche dei ragazzi No ma Ma è un club di Monaco Che cazzo si deve rispondere Hai 16 anni Ho letto tutto Sui rischi dell'eccessiva severità 16 anni Ok Sì sì Allora lei Penso avesse più o meno Quella l'età lì L'età 18 Probabilmente Che l'aveva perché Se no Può registrare meno I solito minorenni Non li prendano Qui è un po' come Il tocchio dall'uomo tigre Cioè nessuno A giro per strada Una persona Andiamo a metterci in un bicolo Almeno Un filo spinato per aria Una zona è abbastanza raccomandabile Ucciderli Ucciderli tutti Spiacente risposta errata Ma ha vinto lo stesso Una fornitura per un anno Di cera per pavimenti Voglio solo essere lasciata in pace Vabbè Così Ok Devi essere pronto Per cosa Per il racconto Tu chi sei? Bisogna farle Le penne nigbi Sì se no Perché se no Si capisce cosa bisogna fare Sono solo un amico Già ma forse io non lo voglio un amico Non ho detto di essere amico tuo Nooo Effettivamente Croce ma quale croce L'ho pensato anch'io Ma quale croce Ma quale croce È il prequel della croce dalle sette pietre Vedi ancora non ci sono le pietre Sono sette stagioni che ci devi mettere Le sette pietre Vedi tutto torna E poi c'è il film finale E poi c'è la croce dalle sette pietre Che racchiude Chiude la storia Ora finiamo di dire cazzate Scusate Vabbè Allora la prima puntata Non conosciamo ancora niente Ma è quello che fa L'hai mai visto? No È bello Posso dire che Hanno Fatto quella band scenica È orribile Non si può vedere Ce n'è uno che torna Inguardabile Cioè Bob Marley Vestiti come Nirvana Esatto Cantano gli oasis Voi due state insieme No Siamo solo amici Una volta stavamo insieme Ma ci siamo lasciati Come mai? Mi ha rubato la barbie Avevamo cinque anni Queste sono cose gravi Eh cazzo Vuoi sentire la mia filosofia? Sì naturale La vita è breve La vita è breve Non è originale D'accordo Però è vero O no Afferra il momento Perché domani potresti essere morta Quindi è carpe d'im No No Assolutamente no Totalmente diverso C'entra niente Tutta un'altra filosofia Bibliotecario che va nel locale dei ragazzetti Non sembra per niente Insomma ci sta Che te lo ha detto? Bello Un tale Bruno Bello Però in modo fastidioso Bello in modo fastidioso E non t'ha detto nient'altro? Sì qualcosa sulla bocca dell'inferno In realtà non mi piaceva per niente Vabbè cose che si dicano Che quando incontro qualcuno La bocca dell'inferno Il racconto Il racconto Non è come gli incubi che hai tutte le notti Aia Sei fantastica Beh grazie per la bella chiacchierata Senti vuoi Cioè vuoi ballare? Tanto c'ha La maglia Presente uguale a quella di checkering Sì è vero È vero Io non ho detto che non ucciderò più un vampiro In realtà l'aveva detto Non ha detto proprio che Cioè sì però Creda a me Solo uno che è stato sottoterra per anni Andrebbe ancora in giro vestito posito Ma non ti sei sintonizzato? Ehi 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 Quella non è Willow Che sta facendo? Afferra il momento Vabbè Giustamente Con il culo che c'è a Willow Ha beccato il vampiro della situazione Hanno cambiato genere Il band Fanno new metal Vai Ma te ha beccato l'unica sedia di frassino Penso che non serve che sia di frassino qui Non serve Qui è legno e basta Basta il legno Generale C'è Porchi Pig Così a cazzo Sempre piacere Porchi Pig Beh sì Ehi E vabbè E Cordelia Scusatemi Devo telefonare subito A tutti quelli che conosco Subitissimo Bello Sto pezzo D'antiquariato Eho Non si preoccupi Un vampiro solo è un gioco da ragazzi Sì Il problema è trovarlo Come hai detto che ti chiami? Ah Aia Darla Darla Sei Non ti avevo mai visto prima Sei con qualcuno? No Mi aspettavo una votata Darla È un invito Sarà troppo Eh sì Dio mio Bellino Eccolo Riberi Ah lui C'ho vestito da nazista Maestro Pubblicità Ho inviato i tuoi servitori perché ti portino del cibo Bene Luke Si Portami qualcosa di giovane Ci piace la carne giovane eh Al signore vecchio maiale La gelateria è da quella parte eh Dopo Hamilton Street C'è una scorciatoia Immagino dove porterà la scorciatoia Eho Eho Che fa il passio dal cimitero Che si fa prima di qua Spero che non sia un bambino Perché altrimenti dovresti ucciderla Oia Fai sul serio Se non la troviamo Ci sarà un altro cadavere domani mattina Vabbè giustamente Ci sarà andare al cimitero a questo punto Sì sì Cambiamo Di che hai paura Ora me ne voglio andare Ne sei proprio sicura Aia E quell'altro tocco Ne arriverà anche lui Sicuramente Potevi portarti il tuo Ecco Aspetta Oh mio dio Jesse Ma l'ha morto diciamo Jesse è stato già Eh va a fare Ha dato un assaggino prima Ma mi ha fatto un succhiotto Deficiente Non andate da nessuna parte Lasciateci stare Voi non andate da nessuna parte Ci dobbiamo Comunque la transizione non è brutta Dai No dai Per essere una serie tv Dico io Avere un'identità segreta In questa città È faticoso Ora noi filiamo Vero Mi parevo di chiedermi Il paletto di frassino Lo ha messo nella tasca segreta Può essere Xander vai Non andrai lontano Oh Un po' di scazzottata Ci veniamo Mi sono appena stirato Guardando quel calcio Bussani Tiè Olè Tutto lo squadrone Quando il maestro Camminerà in mezzo a loro Ancora una volta La terra Facciamola vedere un altro paio E l'inferno stesso Arriverà nella vostra città Dai Beh insomma Insomma Buone prospettive Olè Bellino Insomma Dai Hai indovinato il posto In cui trasferirti Sei andato? Eccolo Amen Eh Bello Con questo fermo immagine Bene Bene ragazzi Beh non male Comunque Una bella serie Buffy Carina Sì 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 La prima stagione Più o meno me la ricordo Quindi Qualcosina ti ricordavi? Sì sì Mi ricordavo Cioè il colpo di scena iniziale Con lei che era il vampiro Me lo ricordavo Io no Non me lo ricordavo Cioè non me lo ricordavo Pensavo fossero due vampiri All'inizio Però strano Che cazzo ci fanno due vampiri Di base Perché lei era uno dei vampiri Me lo ricordavo Bene Bene ragazzi Questa era la primissima puntata Di Buffy l'ammazza vampiri Fateci sapere se vi è piaciuta Presto usciremo Anche sicuramente Con la seconda puntata Sì sì Anche perché Per finire La storia Fateci sapere Che ne pensate Se vi piace Mi raccomando Iscrivetevi Per adesso vi salutiamo E ci vediamo sempre qua Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti E' stupido quello lì Con Mi ha fatto un zucchiotto Come ti Deve Mi ha fatto un zucchiotto